Scegliere l'innovazione significa scegliere CoBelco. 1 novembre 2016, un anno storico. La Sergio Bassani Sarelle, insieme alla CoBelco Construction Machinery, inizia un accordo importantissimo per la distribuzione di escavatori cingolati, di grande tecnologia, di grande qualità e di fama mondiale, per il Triveneto e la Sardegna e alcune zone di Mitrofe. Da quella data, oltre 500 escavatori lavorano nei nostri territori. Questo ci ha spinto ad organizzare la Sergio Bassani con uomini e strutture dedicate per essere vicini al cliente e dare il massimo del servizio post vendita. Non a caso, la Sergio Bassani vanta ben nove filiali, di cui tre specializzate nelle macchine di movimento terra, in Triveneto e in Sardegna. CoBelco e Sergio Bassani, una scelta vincente.